benvenuti al meteo di tele nuova queste le previsioni del tempo per domani giovedì 26 febbraio giorno in cui la chiesa ricorda san romeo la bassa pressione si sposta sulla sicilia con piogge diffuse sull'isola frequenti anche le piogge sulle aree ioniche sulle zone adriatiche in particolare sud delle marche abruzzo e molise maltempo con intervalli di lunghe schiarite sulle altre aree del sud al nord nuvoloso ma senza eccessi tempo instabile su tutta la regione campania in particolare sull'entroterra per l'arrivo di masse di aria umida proveniente da nord est il cielo sarà dunque irregolarmente nuvoloso con schiarite nubi più estese sui monti dell'entroterra con piogge temperatura stazionaria venti moderati da est il mare mosso